buon giovedì buon giovedì amiche amici buon lavoro buono studio buona pausa caffè buon relax buon qualunque cosa stiate facendo grazie perché alzarsi la mattina con la notizia di un proiettile indirizzato nei tuoi confronti non è il modo migliore di cominciare la giornata quindi ringrazio i tantissimi che mi stanno dimostrando affetto solidarietà sostegno stima vicinanza mi auro che anche la politica si unisca da destra a sinistra perché al di là del fatto che io sia momentaneamente ministro dell'interno che ci sia qualcuno che spedisce proiettili evidentemente minacciando di morte una persona per il lavoro che sta facendo per le sue idee dovrebbe essere condannato da tutti quindi visti tutti gli insulti che ho raccolto anche negli ultimi giorni nelle ultime settimane soprattutto da sinistra sono sicuro che arriveranno anzi magari sono già arrivati me ne scuso se sono già arrivate però attestati di sostegno da parte del signor spadafora che giusto due o tre giorni fa mi ha accusato di essere maschilista omofobo sessista razzista sfascista e chi più ne ha più ne metto dalla signora boldrini a cui evidentemente non sto in gran simpatia o magari mi aspetto due parole dal signor saviano piuttosto da quei giornalistoni di sinistra sempre pronti ovviamente a eccepire sulle virgole sui punti e sui due punti qua c'è un proiettile calibro 22 fermato e li ringrazio dalla polizia di stato indirizzato a matteo salvini anzi al duce salvini ministro dell'interno può essere d'accordo non d'accordo con l'idea di qualcuno però mi auguro che tutti condividano il fatto che i proiettoli i bossoli l'istigazione alla violenza le minacce di morte non facciano parte del dibattito politico di un paese civile poi detto questo e abbiamo superato quota 100 da che sono ministro di minacce di morte salvini appeso a testa in giù salvini impiccato sparate a salvini salvini crepa salvini muore affogate salvini striscioni lettere proiettili minacce articoli di giornale vignette con salvini impiccato non mi spaventate altrimenti farei un altro mestiere se avessi paura però mi piacerebbe che intorno a questo la condanna fosse unanime anche se sono sicuro che qualcuno a sinistra magari anche qualcuno su questa pagina è però insomma un pochino salvini se la cerca ecco questa è un'idea folle che rende complice chiunque di questo tentativo di violenza che ripeto non mi appartiene non mi interessa non mi spaventa anzi vado avanti ancora più grintoso